Hola TTV! Hola TTV! Un beso! Buongiorno a tutti! Grazie 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 a tutti! molti modificatori, molti trendi, molti trendi, quindi sappiamo cosa succedere per 2020. Sono molto felice con il show, sempre vedo alcuni errori, mi piace la perfetta, ma sono molto felice con il risultato, è un lavoro di squadra, è un lavoro molto difficile, e quando vedo questo, quando vedo che tutto è ok, è come, oh mio Dio, ho fatto, e non posso perdere a questo tempo. È difficile, ho ricevuto i miei idei, magari vedo arti, andare a musei, è come una cultura, non è come, non è come, volevo dire, ok, ho andato a Morrocco, ho andato a un trip, e poi ho scoperto, ma non è così, è come lavorare e vedere cose bellissime, e dare loro un senso, è quello che faccio. Allora, i nostri dressi sono molto concentrati sui asiatici, perché credo che in Asia la fashion è più potente, e credo che in Asia, in Korea, o anche in Japan, o quello che vuoi, vedete la fashion come qualcosa dentro della tua vita, non è solo per un show, è solo per la vita, e credo che è molto importante per noi, per una moglie, per sentire la fashion, e per usare qualcosa come Sofia e Voila, che è pure fashion, non è come Cinderella, e sempre diciamo la stessa, è come la fashion, magari un cover vogue, ma non come Cinderella. Let's go!